Ultima partita del giorno del mercoledì, ore 23, Casiero contro Federico Fernandone, è stato 1-0 per Federico Fernandone, rete di Ferrara, Vincenzo, attenzione, tiro, bravissimo De Santis, palla a poco all'acqua, partita a primo tempo molto equilibrato, due squadre non hanno avuto tantissime occasioni, poca occasione in più per il Fernandone, che sono in vantaggio per 1-0, una partita molto blanda senza tantissime emozioni, prezzo di tiro, eh, grandissimo gol, grandissimo gol, attenzione, di Amoretti, Amoretti, grandissimo gol. Veramente grandissimo gol di Amoretti, 2-0 per Fernandone, si riprende col tiro, attenzione, fuori di poco, ma si deve ripetere, perché bisogna uscire fuori dal cerchio di centrocampo. Oh, il tiro, attenzione, ha tutto contrasto, attenzione, ma si rialda subito, partita a me, sta diventando un po' più nervosa. Ehi, attenzione, riprendiamo il commento. Ancora Moretti, viene arrivata la palla, fallo letterale, mettiti dietro il FF, ancora Caffiero, metteci Caffiero, si cerca in qualche modo di pareggiare questa partita. Granata, attenzione del tiro e di pochissimo fuori la palla di Sgueglia, Sgueglia ci ha provato, palla di poco fuori, lancia il portiere, fa la stop di De Santis, ma la palla va fuori. Diciamo che questi primi minuti non è che la partita sia troppo bella, veramente poche occasioni da una parte e dall'altra, sono molte emozioni e finisce quel primo tempo. Finisce il primo tempo, risultato Caffiero 0, Ferninandone 2, rete di Ferrara, Vincenzo e di Amoretti.